La violenza non è mai motivata. C'è sempre una storia alle spalle, un perché. Che sei tornato a fare qui? Hai ancora quegli incubi? Si vociferava di violenze, di abusi in collegio. Lasciamolo lavorare, ma teniamolo d'occhio. Qualunque individuo può trasformarsi un giorno in uno spietato assassino. Chiunque, allora anche io e lei. Sì, anche io e anche lei.